Campobasso Tolentino, partita vietata ai cuori deboli, finisce 3-2 per i rosso-blu che allungano la vetta, chissà se in maniera decisiva e battono uno fra gli avversari più ostici passati a Selvapiana. Cudini è senza esposito e Brenci, fra i titolari torna Di Domenico Antonio, dirige Vogliacco di Bari che solo per la cronaca annulla 3 gol ai rosso-blu per fuorigioco, al secondo il mancino di Rucci non crea grattacapi a Raccichini, un giro di lancette più tardi dopo il cross di Vanzani, il piattone di Bontà è in rete ma il gol viene annullato per offside, partita viva al nono Di Domenico Antonio, viene giudicato in posizione regolare, effettua una torsione con il corpo ma poi non chiude troppo il tiro e conclude a lato. Tolentino che non rinuncia a spingere al sedicesimo cross di Ruggeri, Raccichini anticipa Padovani, scontro fra i due ma per fortuna nulla di grave per entrambi, sono i bianchi di Cudini a fare la gara al ventitresimo, Cogliati sguscia via dal fondo, la palla è sporcata da Bonacchi, l'azione prosegue con il pallone recuperato da Vanzani il quale conclude a lato ma non di molto. Il Tolentino replica ad ogni iniziativa dei giocatori di casa al ventisettesimo la punizione di Conti alzata in angolo da Raccichini dal corner che ne nasce il solitario strano, non inquadra la porta e si dispera, occasione importante per gli ospiti. Ancora Tolentino che a Selvapiana non vuole regalare punti, al 35esimo il corridoio di Tortelli è letto benissimo da Menna che chiude di fatto Padovani. Al quarantesimo episodio da Moviola con Bontaghe da limite calcia, il tiro è sporcato da Cogliati e finisce in rete. Seraterna arbitrale diretta da Albarese, Voiacco annulla per fuorigioco. Grossa palla gol, Cremisi al quarantatresimo, traversone al bacio di Tortelli inzuccata con i tempi giusti di Rucci al lato davvero di poco. Al quarantatresimo, 30 secondi, il sinistro di ladu è davvero chirurgico ma è deviato sul più bello da uno del Tolentino, anche qui disperazione del giocatore Sardo. Al quarantacinquesimo, Cogliati si fa in quattro dal fondo e mette al centro dove Vitali aggancia a contatto con Strano ma non c'è nulla per il fischietto barese. Con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa, al secondo i rosso-blu sono avanti, angolo di Di Domenico Antonio, stacca in area Menna, manata di Governali che non riesce a trattenere, tapin di Dalmazzi che si produce in una grossa e sentita esultanza, poi corsa sfrenata verso i genitori presenti allo stadio. Rosso-blu in vantaggio, partita che sembra in discesa, al sesto traversone di Bontà da destra, Candelori si fionda sul pallone ma non ha gancia. Reazione ospite al decimo, destro di Severini si tuffa Raccichini, al dodicesimo un indomito, Dalmazzi va via quasi in area di rigore a Zazrancheon, il direttore di gara comanda una punizione dal limite per i locali, calciata poi al lato di destro da Candelori. I rosso-blu congelano la partita al sedicesimo quando il tiro cross di Di Domenico Antonio beffa Governali che tenta in vano di dare una manata al pallone. Rosso-blu che bissano il vantaggio nel giro di un quarto d'ora, la partita può apparire in discesa, mentre Cudini fa entrare Rossetti dal ventesimo al posto dello stesso autore del raddoppio Di Domenico Antonio. Al ventinovesimo occasione ospite con il taglio del neo entrato Pagliari su cui non arriva Laborie, quest'ultimo poco dopo lascia il campo all'ex notaresco Minella. Il Tolentino dimezza le distanze al trentunesimo con un triangolo davvero di bellissima fattura condotto fra Padovani e Capezzani, quest'ultimo con un tiro di giustezza. Buca, Raccichini, Cremisi in rete, continua la girandola di cambi dentro anche Aloisi per Severini. Al trentacinquesimo contatto in area fra Dalmazzi e Dalmazzi, si riprende con un corner per gli ospiti, mentre Dalmazzi facendo all'arbitro che l'avversario avrebbe simulato. È la partita dei gol annullati al campo basso, al trentasettesimo dal fondo Candellori mette al centro dove c'è la zampata di Rossetti che semia, ma la marcatura viene ancora invalidata. Succede tantissimo nel finale quando il campo basso segna il terzo gol con un'azione davvero straordinaria e vitali a lanciare di prima. Tengo Rang, il quale si porta avanti il pallone di testa, entra in area di rigore e batte in diagonale il portiere ospite che pure tocca il pallone. Gli ospiti però non alzano mai, bandiera bianca al quarantatresimo sugli sviluppi di un angolo battuto da Aloisi. L'ultimo tocco vincente è quello di Tortelli, la palla passa in un nugolo di gambe e beffa Raccichini. Marchigiani ancora in partita, mentre al novantesimo viene espulso Cudini per proteste. Comandati sei minuti di recupero, al terzo dei quali viene allontanato anche il vice di Cudini, Giuseppe Antoniozzi. Mentre negli spiccioli di gara siamo al novantaquattresimo, grossa occasione per Vitali che si lascia ipnotizzare da governali. Mentre al novantaseiesimo intervento in due fra Aloisi e Capezzani su Vitali che cerca di passare nello stretto. Ma il tutto viene giudicato regolare con il tiro poi di Tengo Rang qualche attimo più tardi di un soffio a lato. Finisce con la grossa esultanza dei giocatori rosso-blu che allungano sul notaresco, grosso abbraccio degli stessi giocatori e corsa sfrenata verso la curva nord, purtroppo vuota.